carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola iniziamo la nostra rassegna stampa con il corriere della sera linea dura contro la movida licenziati serve una stretta sulle fasce rosse le regioni frenano bacini più dosi subito la carica di tre governatori passiamo al dunque la repubblica basta con le scuole online fateci tornare in classe fisco in arrivo 50 milioni di cartelle piano per dilazionarle il quirinale troppi ritardi subito si al ricoveri la stampa il colle stop alla crisi prima il ricoveri il video di q anon contro il quirinale spia servizio inglese continuiamo con libero l'importanza di chiamarsi matteo sfogo di renzi l'ex lottavatore non sopporta più conti e ha scritto 30 cose che non vanno la sua bella nuova dice finita ma premia rimane al suo posto sfogo di salvini l'esecutivo va da casa no patti con italia viva il centro d'estero pronto per tornare al governo elezioni anticipate o fidiamoci al parlamento l'uomo che cambiò la città ecco cosa serve ridateci albertini sindaco di milano passiamo a il giornale parla il cavaliere berlusconi fate presto vergognosi giochi di palazzo mentre il paese bloccato noi incompatibili col pd aiutiamo ma non al governo la sinistra che condanna alla violenza poi evoca le armi contro la moratti renzi giallo della difesa l'idea di un futuro alla nato il fatto quotidiano renzi incartato anche oggi ritira le sue eh ministri domani ed ancora gli autori che mi hanno fatto scrittrice joyce carroll d'ezi romaggio romanzo saggio su wolf kafka james and company continuiamo con la verità il 46 bo di toninelli sui migranti ministro insaputa sua e di conte la crisi di governo toglie i soldi alle imprese passiamo a il tempo il bluff degli scienziati di conte svelate le pagine dei professori del comitato tecnico scientifico che decide la vita degli italiani sono 26 e pochi hanno i voti alti i meglio non vanno alle riunioni gli altri sono grigi ministeriali metà del gruppo deve il posto a speranza o al premier l'indipendenza è impossibile continuiamo allora con il messaggero il conte ter sblocca la crisi contagi stretta bar dopo le 18 fondi unione europea per il vaccino italiano proseguiamo con il mattino di napoli conte tre si tratta sul patto stretta sulla movida dalle 18 stop asporto de luca vaccini finiti l'esercito digitale delle bugie la corte di donald trump proseguiamo allora con il resto del carlino italia blindata per 50 giorni attenti al virus della paura canta autore e il covid parliamo di enrico luggeri farò il vaccino rispetto regole di vieti ma il timore della morte non ci fa vivere ci rende sudditi continuiamo con domani dopo la sfida a trump ora mark zuckerberg ci ricatta via whatsapp la tragedia degli anziani per il ricoveri può fermare continuiamo con il foglio il muccioli della pandemia i vaccini le siringhe prima i banchi i tamponi muni l'ilva vita relazioni opere del commissario di tante crisi italiane dalla prima la terza repubblica colui che tutto può e qualcosa con arroganza compiaciuta risolve fenomenologia di domenico arcuri se il populismo gioca con le parole c'è qualcuno poi che le trasforma in pietre chiudiamo con i giornali nazionali leggo bar chiuso le 18 e resta coprifuoco un algoritmo dirà chi vaccinare prima immuni l'app mai decollata pioggia senza sosta scatta l'esso e settevere morti in solitudine alla vigilia di natale proseguiamo con i giornali eh locali iniziamo con il gazzettino il quotidiano del nord est zone rosse muro delle regioni alto là dei governatori nuovo criterio penalizza i virtuosi veneto ed emilia e romagna più a rischio palazzo chigi ritorno della boschi la crisi si sblocca verso il conto e terra la sponda del colle continuiamo con la gazzetta del mezzogiorno zone rosse d'alto là delle regioni puglia i furbetti dei vaccini la bella nuova conta esperienza archiviata il tempo che passa in piazza assegnato da orologi lucani l'unione sarda cagliari la classifica e so fa paura poi vaccini in ritardo le nuove scorte renzi non vuole le elezioni scorie mai senza consenso lasciamo l'unione sarda passiamo al secolo decimo nono movida e spostamenti vietati l'italia attende la terza ondata container agli errori di carico costano sei miliardi proseguiamo con l'eco di bergamo tornano a crescere i ricoveri il momento resta delicato si ribalta col furgone infarto a fine giornata muoiono due cacciatori passiamo a il tirreno villa puccini in vendita trattative riservate affidate un'agenzia di lucca terza ondata alle porte nuova stretta toscana i treni dei desideri il messaggero veneto conte verso un nuovo dpcm peggiorano i dati regionali udinese solito copione troppi errori alla fine in napoli ne approfitta il piccolo quotidiano di trieste il capolavoro alliance contro bologna si di basket nel calcio e la triestina si fa beffare dal fano la regione in zona gialla plus record di ricoveri covide settecentosessanta sette la sfida di 1300 corse al gelo fra carso e mare tram di opicina ripartono i lavori dopo due mesi per i nuovi binari proseguiamo con la gazzetta del sud messina blindata per evitare il peggio frenare l'epidemia accelerare sui vaccini un conte ter per uscire dai guai e allora è il momento de il mattino di puglia e basilicata doveva andare via cinque anni fa renzi invece continua a sabotare il governo mettendo a rischio i ricoveri e gli aiuti dei ristori agli italiani le 28 volte in cui ha rinnegato se stesso prima di sconfessare giuseppe conte covide fino ad aprile stato di emergenza facciamo lezione nei centri commerciali oggi riaprono solo tre regioni continuiamo con la digestiatoria numero chiuso il nuovo protocollo prevede il tetto del trenta per cento della capienza entro aprile sessantamila vaccinati la sicilia dubbio variante siciliana continua l'escalation dei contagi nella regione dietro cui potrebbero non esserci solo comportamenti irresponsabili possibili spiega l'infettivologo Jacobello che ci si trova di fronte a una mutazione del virus arrivata nell'isola trattativa ancora in stallo ma si pensa già ai cambi guerini verso il minale data ormina catania in treno in 40 minuti il sogno prende colpo impeachment per trump oggi richiesta la camera ma biden resta prudente passiamo allora ai giornali sportivi la gazzetta dello sport ibra ricomincia da più tre e milan scappa ancora e pioli prenota a mezzo scudetto slattano ritrova i rossoneri sono in vetta mercato si macano il primo rinforzo occhio conte arriva la juve domenica super sfida a san siro e bianconeri ora sono lì ed ancora passiamo al corriere dello sport conte frena l'inter la roma recupera nel finale due a due esulta solo il milan la juve fa paura battuto il sassuolo tre a uno e domenica il big match di san siro con l'inter seconda bianconeri ora ridosso delle posizioni di vertice con una gara da recuperare partita decisa negli ultimi minuti da ramsey e ronaldo dopo l'uno a zero di danilo e pari di defrel in dieci mckenny di bala k o nei primi 45 minuti napoli risolve baccaio coma gattuso attacca la lazio si fa un bel regalo caicedo protagonista andiamo con tutto sport tre sms al milan la juve non molla il sassuolo rimane in dieci per l'espulsione di obiang nella ripresa i gol di danilo de frel ramsey e ronaldo e bianconeri restano a sette punti dai rossoneri ma in due giornate ne hanno recuperati cinque all'inter ansia per mckenny di bala due a due con la roma l'inter si butta via nervi tesi conte giornate in zona b svegli a toro quando compri ancora niente rinforzi a differenza delle rivali tifosi in fibrillazione ed è tutto per il nostro appuntamento con la rassegna stampa con la nostra edicola che ritorna puntuale anche domani come al solito alla stessa ora avete ascoltato carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola